Il calciatore è l'uomo per eccellenza nel sentire comune italiano ma anche non italiano però siccome in Italia è lo sport più diffuso Il fatto che siccome il calcio, secondo me, è proprio lo stereotipo del maschile in Italia cioè nel senso è un dato di fatto, non è che è giusto o sbagliato, è così e il fatto che ci sia un gruppo di buchi che gioca al calcio è una cosa che per tanti gli mette in crisi cioè parte a inclinare delle certezze, questo io penso però che sia che se c'è un squadra del gay poi tutto il mondo capisce tutto Non c'è nessun giocatore di calcio italiano che abbia dichiarato di essere gay e magari ci sarà Una persona che ha questo preludizio non ce l'ha solo sul calcio semplicemente pensa che un gay non sia uno sportivo Non siamo fenomeni da serie A, sappiamo che andiamo lì per giocare appunto come abbiamo detto nel nostro spirito, si va e si prova, non è deciso di una prima si va appunto per portare avanti i nostri, far sentire la nostra voce